Le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine questa mattina sono qui al Maschio Angioino, Sala dei Baroni, dove è in atto un consiglio comunale incandescente. Le opposizioni hanno annunciato l'arrivo di un notario per raccogliere le firme di tutti i consiglieri di opposizione, forse qualcuno del gruppo misto, per sfiduciare questa amministrazione. Seguite il servizio. Il consiglio comunale è abbastanza vivace, stamattina quasi determinante. Cosa sta accadendo, consigliere? Stiamo cercando noi di Fratelli d'Italia, insieme a tutto il centrodestra, di fare un po' di chiarezza e di sgomberare il campo da tante amiguità che ci sono nella maggioranza del sindaco De Magistris, dove ci sono tanti consiglieri che ormai hanno annunciato di essere passati tra le fila di De Luca e di essere prossimi candidati del centrosinistra, però poi qui al Comune continuano a mantenere l'amministrazione De Magistris. Allora, o è tutta una finta la guerra tra De Luca e De Magistris, oppure se davvero il governatore ritiene che ci sia una cattiva amministrazione qui in città, è il dovere di dare mandato ai suoi consiglieri comunali, quelli che fanno capo alla sua coalizione, di sfiduciare il sindaco di mandarlo a casa. Noi abbiamo provato a contattare un notaio che sarà qui a breve per raccogliere le nostre dimissioni. In caso di 21 dimissioni c'è lo scioglimento automatico del Comune e permetteremo ai napoletani di poter votare in contemporanea tra comunali e regionali assieme. Sarebbe una cosa saggia che permetterebbe ai napoletani veramente di poter scegliersi una nuova amministrazione regionale e anche una nuova amministrazione comunale. Abbastanza audace perché le regionali si voterebbe il 20 e 21 settembre. Noi siamo convinti che bisogna votare insieme, noi come Fratelli d'Italia auspichiamo addirittura che si possa avere uno scioglimento di quello che è il governo nazionale, ridare la parola agli elettori anche per quanto riguarda il Parlamento. C'è voglia di cambiamento, le istituzioni che litigano tra di loro non sono istituzioni in grado di poter affrontare una fase difficile come quella che stiamo affrontando, che è drammatica dal punto di vista socio-economico per le conseguenze del lockdown, del coronavirus e di quant'altro. Occorre che ci siano istituzioni molto più attente, molto più responsabili, molto più vicine ai cittadini. Ultima domanda, lei faceva riferimento a consiglieri passati nelle fila del governatore De Luco. Quindi una doppia malagestio oppure un consociativismo occulto? Una cattiva politica alla base di tutto, una politica che pensa solo agli interessi personalistici e che non è in grado di mettere al centro i bisogni dei cittadini napoletani. Il problema è questo. Anche i cambi di casacca che abbiamo visto negli ultimi giorni sono frutto di interessi solo e esclusivamente di natura personale. Stamattina stiamo aspettando, come diceva Andrea Santoro, il notaio. Un notaio per accogliere le firme delle vostre dimissioni. Sì, sì, noi siamo pronti a mantenere l'impegno preso con i cittadini napoletani. Il centro-destra è compatto e coeso. Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega oggi si dimetteranno. I sei consiglieri del centro-destra in attesa di novità. Lasceremo aperta, simbolicamente, naturalmente, questa sottoscrizione per 15 giorni in modo che quando si dirimerà una serie di questioni burocratiche all'interno del governo, cioè di evitare che il Comune si possa votare insieme alle regionali, vedrete, ne siamo certi, che verranno dietro tutti quanti gli altri. Per noi è un tratto sostanziale la bocciatura, senza sé e senza ma, di questa cattiva amministrazione, di questo malagestio, senza fare calcoli politici. Ecco, quello che diciamo è che Comune e Regione si beccano dalla mattina alla sera, ma poi dopodiché sono d'accordo sulla gestione del momento politico ed elettorale. Questo abbiamo smascherato e questo dobbiamo far capire ai cittadini. Se volete il cambiamento, dovete votare il centro-destra.